Si potrebbe quasi dire e riaprirono tutti felici e contenti, se non fosse che in realtà si tratta di un finale a tempo determinato, della durata cioè di un anno, che equivale al tempo di gestione dell'impianto natatorio pescarese affidato provvisoriamente alla cordata romana composta dalle due società, Centro Italia Nuoto e Sistemi Integrati per lo Sport, arrivata terza al minibando che nel 2019 affidò la gestione della piscina all'atinaia di 2020. Ora, finalmente, dopo numerosi mesi di chiusura, il Centro Sportivo potrà riaprire i battenti da metà luglio, in attesa che il nodo della gestione si sciolga definitivamente e che si porti a termine una storia ormai infinita, il cui epilogo sarà o il project financing o l'affidamento al Comune di Pescara, cosa su cui evidentemente non tutta la politica sembra essere d'accordo. Lorenzo Sospiri, Presidente del Consiglio regionale, finalmente riaprono le naia di tempi di attesa che qualcuno dice troppo lunghi. Si poteva fare prima? Guardi, il comparto delle piscine sono andato in crisi in tutto il mondo, per il Covid e non per altro. In generale Abruzzo nel corso del tempo ha investito molte risorse per mettere in piena agibilità e funzionalità le naie di questo ha comportato uno slittamento dei tempi. Però non vorrei che venisse meno il risultato che l'impianto sarà pienamente funzionale, ecco, che mi pare la notizia vera, tra tanti strilli, il fatto reale è che riaprono le naie di. Sono stati folgorati nella notte di San Giovanni, a distanza di tre mesi da quando l'avevamo detto, riapre con la società individuata con un'evidenza pubblica, come è giusto che sia. Siamo felici per la città, per i lavoratori, per tutti quanti gli utenti. Speriamo nel corso di questo anno si possa lavorare o per il project financing, che significa investire 5 milioni di euro per l'efficientamento energetico di questa struttura, o per la cessione definitiva al comune di Pescara. Sull'enaia di mi auguro che oggi si ponga la parola fine, perché c'è comunque una confusione generale, una lotta intestina tra i partiti del centro-destra. Noi abbiamo le idee chiari. Ebbene, io sono un integralista per la gestione pubblica e la soluzione, che è stata anche votata dal Consiglio Comunale di Pescara, è quella di far rimanere la proprietà sicuramente in capo a Regione Abruzzo e dare la gestione al comune di Pescara. La gestione deve essere pubblica. Io sono sempre stato e sempre sarò contro i progetti di finanza. La notizia importante è che tra qualche giorno l'impianto natatorio delle Naidi riaprirà. I tempi potevano essere sicuramente accorciati, però è importante adesso disegnare la traiettoria futura, che può essere o project o assegnazione al comune. Io, come Fratelli d'Italia, sono per la prima sul project, perché ritengo che attingere a fondi privati per rimettere in sesto una delle strutture più importanti d'Europa sia fondamentale. C'è un merito in tutto questo. Nasce dalla grande attività della Lega in Consiglio Comunale, e dalla grande attività della Lega in Consiglio regionale, e anche dal fatto che il Consiglio Comunale di Pescara si è messo in prima linea a difesa della riapertura della struttura. Adesso si apre un'altra pagina, si apre la pagina di immaginare il futuro delle Naidi. E la Lega per cosa propende? Le Naidi sono una risorsa, un patrimonio del comune di Pescara e della regione Abruzzo, quindi riteniamo sia fondamentale pensare ad un investimento da parte della regione sulla struttura ed una gestione da parte del comune di Pescara che ha capacità per essere garante di una gestione lunga, duratura e sana. Se il comune si sente in grado di avere strumenti gestionali e finanziari per far fronte alla gestione di un bene che richiede di venga trasferito, è una delle opzioni assolutamente in campo. Infatti credo che la cosa migliore è che il comune e regione si siedano velocemente, non attendere gli ultimi mesi di questo anno che abbiamo di tempo, e trovino, valutando il solo interesse degli utenti e delle Naidi, qual è la soluzione migliore.